Giulia Salemi quest'anno è tornata al Grande Fratello Vip ma non nelle vesti di concorrente, ma in quelle inedite di esperta dei social. Posizionata in studio alle spalle di Alfonso Signorini, l'ex vipona di tanto in tanto riporta il sentiment dei social sulle varie questioni di battute in puntata e legge i tweet più divertenti. Questa estate mi ha telefonato, Alfonso Signorini, NDR, per invitarmi a Miconoscomper Paolo, dicendomi che doveva parlarmi. L'ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un'illuminazione, voleva un grande fratello Vip più social e mi in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta. Una proposta che ha immediatamente accettato, come rivelato a TV sorrisi e canzoni. Ho accettato subito, anche se non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno. Giulia Salemi, ecco come sceglie i tweet. Oltre a riportarli al grande pubblico, Giulia Salemi ha anche l'arduo compito di scegliere i tweet da leggere. Intanto ho un profilo Twitter creato ad hoc, per non essere influenzata dai miei fan. Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti. Mando una selezione dei messaggi agli autori attraverso una chat e poi loro li scremano. Un ruolo inedito inventato da Alfonso Signorini ispirato dal mare della Grecia. Proprio a Mykonos, oltre Giulia, ha incontrato anche Pierpaolo Pretelli e Soleil sorge a cui ha affidato la conduzione del GFV Party.